Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo condividere con voi i miei acquisti effettuati online dalla fabbrica Galbusera. Ho comprato un pochino di prodotti che faccio fatica a reperire nei supermercati e loro sono stati gentilissimi perché nel giro di un giorno mi hanno mandato la merce. Qui c'è la scatola che mi è arrivata e adesso la apriamo insieme così vi faccio vedere cosa ho preso. Il primo prodotto sono queste mini gallette di riso, mais e legumi. Non sono fritte e sono senza lievito. Ve le faccio vedere sperando che vediate qualcosa perché c'è il sacchetto trasparente quindi si intravede qualcosa. Sono triangolari e sono proprio delle mini gallette che potete utilizzare al posto dei grissini o dei cracker come accompagnamento alla pietanza oppure anche come snack magari a metà pomeriggio, a metà mattina. A me queste cose piacciono tantissimo, sono quelle cose un po' particolari che però io apprezzo. Poi ho preso una confezione di confettura di fragole della linea cuor di forno. Questa è proprio una semplice confettura di fragole, mi serviva. Intanto che ho fatto i miei acquisti ho aggiunto anche questa. Poi ho preso una confezione di barrette croccanti al sesamo. Queste mi piacciono tantissimo ma non le trovo con tanta facilità nei supermercati e quindi ho deciso di aggiungerle al mio ordine. Poi la cosa che davvero volevo prendere erano queste fette che si chiamano belle buone come linea e sono praticamente delle fette biscottate un pochino più spesse e io mangio volentieri a colazione. Adesso vi faccio vedere tutte e tre le versioni che ho preso. La prima è questa con mandorle, semi di zucca e semi di lino. Poi ho preso questa che ha nocciole e semi di zucca e poi ho preso questa che ha diverse tipologie di semi in particolare papavero, girasole, zucca e lino. Queste sono le uniche che ancora non ho provato di questa linea qui belle buone ma ne ho preso tre confezioni perché a colazione io queste le mangio sempre volentieri quindi ho voluto fare un pochino di scorta. Poi come ultimo prodotto questi plum cake integrali con gocce di cioccolato della linea più integrali. Io conosco questa linea, avevo già preso altre cose ma questi plum cake nello specifico non li ho mai assaggiati. Voglio mangiarli per colazione quindi ho pensato di prenderli per provarli. Magari vi lascio giù in info box il sito della galgusera sul quale io ho effettuato questi acquisti così se vi dovesse interessare qualcosa potete direttamente accederci. Io non guadagno nulla perché non è una collaborazione, lo lascio semplicemente per gentilezza. Comunque i prodotti galgusera a me piacciono tantissimo e quindi sicuramente effettuerò poi degli altri acquisti perché ho visto che ci sono un sacco di cose molto sfiziose, molto interessanti che avrei acquistato però per il momento ho preso solo quello che mi serviva. Questi sono i miei acquisti di oggi, fatemi sapere nei commenti se vi piace questa marca e se avete provato qualcuno di questi prodotti che vi ho fatto vedere. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.